Bella ragazzi impegnati, costantemente radimio Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo Andiamo a allenare Michael Per la seconda volta Per la seconda volta, però questa volta è per la partita di questo weekend Dobbiamo ancora decidere il giorno di sabato o domenica Eccolo, eccolo A te piace il tazzo Michael Perfetto, si è presentato benissimo Iniziamo Adesso, come state vedendo, alle mie spalle C'è la porticina qua Qua, in questo video, sto per allenare sulle palle basse Perfetto Allora Adesso Michael, tu ti metterai là, qua Qui E se da là, te la posterò, vedi la porta E tu devi prenderla in qualche modo Ovviamente non con i piedi, ma la porti Sei? Yes Sei? Sì Pronto? Sì Adesso la mano, passeremo la musica Avanti, però con il video, passo la mano E riflessi E riflessi voglio Comunque, anche se sarebbe tipo una porta a 5, l'avrebbe parata Chi? E Michael, adesso provo un po' i rinvii Ci sei Michael, vai Dov'è, stai Enzo con il flash? Vabbè, diciamo che Enzo qua la potrebbe avere anche stoppato Però c'è il flash in mano E adesso, aiuto, dopo vari allenamenti andremo a fare Per fare la presa, la portiere, quindi Michael la devi stoppare Va bene anche in due tempi Però tu provi in un tempo, ok? Man mano aumentiamo la velocità e la forza Vai, vai In quella porta Che faremo la porta Chi sei? La palla, eh? Via! 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 Adesso, man mano, mettiamo la porta Via! 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 E quindi, Iu! Questo video può finire qua Michael finire qua Sì Come ti so sentito in questo video? Un po' sotto tono Un po' sotto tono Va bene, va bene E niente Io non gioco così Io nelle parti E niente Lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Non provare mai più in questo video E niente Noi ci riveliamo Nel prossimo video E vai you Chi non metterà Chi non gli piace la fita E vai you Ciao